E' sì che colui che condivide E' il mangiare. Ricordati che in qualsiasi problema puoi contare su un SIC Papa, ma come fai sempre così tanto di SIC? Mi sa che ti devo raccontare un po' tutta la storia Anzi, salva meraviglioso, per il primo giorno, namaskara da vorsalam E oggi siamo in un'altra cosa che ho fatto E' un bellissimo film E' anche l'unico in Italia E' anche l'unico in Italia E' anche l'unico in cui è stata la gente D'unico in cui è la vita E' anche l'unico in cui stai E' anche la gente a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici